e quindi ora ci occupiamo delle imprese sociali e familiari che costruiscono nuove opportunità e la finanza che supporta il loro sviluppo. Allora, Airday Italia ha voluto organizzare questa seconda tavola rotonda per dimostrare che in un contesto socio-economico di grande difficoltà e di crisi ci sono spazi per dei nuovi modelli di sviluppo che hanno delle prospettive di ripresa e opportunità di occupazione. Naturalmente, essendo la giornata mondiale dell'ambiente e peraltro nel... Aspettiamo che entrino... Nell'anno internazionale dell'agricoltura familiare l'attenzione chiaramente si focalizza sull'ambiente quindi su quei progetti che possono essere in armonia con l'ambiente, progetti di cooperazione e progetti che appunto possono creare lavoro e competitività quindi dare dei segnali anche di opportunità di ripresa al Paese. Ovviamente, per sostenere dei progetti, nuovi progetti, occorre anche che ci sia una finanza disponibile a raccogliere queste sfide e quindi una finanza che si contrapponga a quella stretta del credito che abbiamo conosciuto come credit crunch e che ha praticamente chiuso i rubinetti sia alle famiglie sia alle piccole imprese. Quindi, che cosa significa? Significa scommettere su delle nuove idee esattamente come è avvenuto per quanto riguarda il settore tecnologico con imprese che conosciamo ormai benissimo da Apple a Google che all'inizio hanno cominciato come start-up e che sono diventati chiaramente dei colossi. quindi qui sentiremo parlare di impact investing social impact bond di finanza sociale ed etica quindi si tratta, come ho accennato, di una finanza intelligente e lungimirante che raccoglie queste sfide. Naturalmente l'obiettivo è anche quello di avere un ritorno economico però vuole anche rispettare l'ambiente, vuole l'inclusione sociale vuole essere appunto etica. Allora, io direi che anche perché i tempi sono abbastanza stretti possiamo cominciare ascoltando l'intervento di Davide Dalmaso che è segretario generale del forum per la finanza sostenibile. Grazie. Dunque, io approfittando del fatto che dopo di me ci sono delle testimonianze per la finanza sostenibile.